Signore e signori, benvenuti a bordo. Questo video vi darà alcune informazioni di base sulle misure di sicurezza e di salvataggio in caso di emergenza. Guardate con molta attenzione questo video e durante il viaggio localizzate sempre il punto di riunione e la zona dove sono posti i salvagenti, più vicini a voi. Vi ringraziamo della cortese attenzione e vi auguriamo buon viaggio. Per la vostra sicurezza, il segnale generale di emergenza è composto da una serie di almeno 7 fischi brevi, seguiti da uno lungo, emessi dalla sirena e dal sistema di altoparlanti della nave. Se siete nella vostra cabina, indossate abiti caldi e portate con voi le medicine indispensabili. Dirigetevi al punto di riunione seguendo la via principale di uscita indicata sul cartello Voi siete qui, che si trova dietro la porta della vostra cabina. In caso di emergenza, se non siete nella vostra cabina, recatevi direttamente al punto di riunione seguendo il percorso indicato dalle frecce. Al punto di riunione, qualora necessario, il personale di bordo vi fornirà una cintura di salvataggio per adulti o per bambini. Non usate gli ascensori Non tornate per nessun motivo nella vostra cabina Nel caso vi fosse fumo nei corridoi, dirigetevi a gattoni verso l'uscita di emergenza seguendo i segnali direzionali fotoluminescenti posti in basso lungo i corridoi e le scale. Su questa nave ci sono i seguenti punti di riunione Punto di riunione A Ponte 7 Centro nave Punto di riunione B Ponte 8 Centro nave Sala poltrone Questa nave è dotata di quattro lance di salvataggio e di zattere ammainabili autogonfiabili. Seguite sempre le istruzioni impartite dal personale di bordo e dall'altoparlante. Per segnalare un'emergenza rompete il vetro. Qualcuno dell'equipaggio sarà sul posto in breve tempo. Come indossare il giubbotto di salvataggio Indossare il giubbotto attraverso la testa, stringere bene la cinghia attorno al corpo e fermarla. Saltare dall'alto può essere molto pericoloso. Se siete costretti a farlo, fermate con le mani il giubbotto. Una volta che vi trovate in acqua, usufruite del fischietto e della luce per segnalare la vostra posizione. La Grimaldi Lines vi augura buon viaggio!